Il carro energia è una vera e propria emergenza. Che la situazione fosse difficile lo si era intuito, ma con i primi freddi la mattina i problemi sorti in alcune scuole, ad esempio il caso del muspa di pagliare di sassa è emblematico, con i bimbi dell'infanzia malati a 11 gradi, hanno confermato tutte le difficoltà del caso. Tant'è che dopo varie segnalazioni persino la ASLA ha invitato il primo cittadino ad accendere. Il Comune ha così deciso di accendere qualche ora la mattina per verificare il funzionamento degli impianti. Il Comune ovviamente non è esente dall'aumento vertiginoso dei costi. Da lunedì però si accenderà nelle scuole anche negli alloggi di proprietà comunale in maniera fissa, ma la situazione è molto difficile perché le previsioni non sono affatto rose. Noi abbiamo chiesto dei sacrifici perché così c'è stato anche trasmesso dal livello nazionale, però solo la città dell'Aquila ha dovuto passare da una previsione di 11 milioni di euro risalente al consuntivo 2021 ad una di circa 18 milioni di euro. Quindi un incremento di 8 milioni di euro per le bollette a fronte di un risarcimento da parte dello Stato di un solo milione di euro. È evidente che è una situazione che non è intollerabile per un tempo troppo lungo, servono interventi strutturali che stiamo mettendo in campo, ma serve soprattutto un tetto al prezzo dell'energia. Intanto prima e seconda commissione oggi si sono riuniti assieme per spiegare che esiste una possibilità per accedere a fondi per la formazione di comunità energetiche. Questa seconda commissione, gestione territorio, è stata convocata anche su impulso delle minoranze per rendere noto a più persone possibili che c'è la possibilità di accedere a dei fondi attraverso un bando che originariamente era stata fissata la scadenza della presentazione della domanda al 31 ottobre, mentre adesso è stata prorogata il 20 novembre, c'è la possibilità appunto di accedere a questi fondi per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili. È un tema di primaria importanza, per questo ho colto l'opportunità di convocare congiuntamente alla seconda commissione, la prima commissione di cui mi onoro di essere presidente, convolgendo tutte le associazioni di categoria, convolgendo responsabili dell'ufficio speciale a ricostruzione dell'Aquila, l'ing. Salvo Provenzano, che assieme all'assessore Taranta illustreranno quello che il comune su questa fattispecie può fare a livello locale. Prosegue dal punto di vista della prima commissione, dei lavori finalizzati all'azione che a livello locale possiamo fare, è necessario che su questo tema l'intervento del Governo centrale che sicuramente ci sarà, è necessario per dare tranquillità e certezza alle famiglie e alle imprese.